L'importante è non essere ignorata, così diceva O2 Apple e aveva ragione. Lei ha vent'anni, l'abbiamo conosciuta nei spot team, era una delle tre, quella della pernacchia, tanto per capire. Stracult, oggi uno scoop. Stracult è stato il mio primo programma come conduttrice, grazie al quale ho avuto la possibilità di conoscere più da vicino il mondo del cinema. È stato il regista simbolo della generazione X. Questo è il mezzogiorno a Roma. Ah, ci sono anch'io. Ho deciso di intervistarmi lei. Sì, perché lei con la faccia che ha, poi io credo che gli occhi e la voce sono un po' lo specchio dell'anima. Non sei un attore per caso? Adesso forse no, non è più così effettivamente. Vai, togli il forse. Poi Moschito su Italia 1, un programma divertente sulla musica e l'attualità. Pierino. Sì? Alvaro. Simbolo culto del trash. Eh, ma ha detto monnezza. Ciao Moschito, sono qua con i miei inviati e anche oggi faremo il giro della città con loro e molti ospiti. Donne unique di sempre, donne alla moda, donne controcorrente. Ciao Moschito! Gaia Amaral. Fiesta su Rai 1, seconda serata. Buonasera a tutti, benvenuti a Fiesta! Pequilla! Tutto sul ritmo e la cultura sudamericana. Diciamo che le mie origini brasiliane qui si sono fatte sentire. Io sono Giustan Paolo. Gaia Amaral. È il personaggio dell'estate, è il personaggio dell'estate di Rai 1. Grazie, ma io sono felicissima di essere qua a Fiesta. O facciamo le persone serie. Signore e signori, Don't Cry For Me Argentina, con la Cucu Band di Natalio, canta Antonella. I Paliti! Mi piace un uomo alto. Saltiamo questa domanda. E in me che cosa ti piace di più piccina? Qui cambio. E in me che cosa ti piace di più stronza? Stella del Sud, su Rai 1, il sabato pomeriggio, mi ha permesso di fare in sette mesi il giro del mondo. Dal circolo polare artico ai tropici, era una continua scoperta. Ma adesso vi chiederete, dove si trova esattamente lo zucchero nella canna? Adesso vi faccio vedere come rendermi la vita meno amara. Spedattito! E per me ora è arrivato il momento del safari con gli altri. Questa meraviglia è il risultato dell'unione tra una notte a casa francese di profumi e cosmesi e il più importante risorto a Oriziano. Come dire, il gusto classico con salsa tropicale. Lanciata da uno spot, ora mi ritrovo in televisione sognando il cinema. Non la puoi ritrovare in nessuna città perché è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà.